Ciao a tutti, io sono Mariangela e benvenuti o bentornati nel mio canale. Allora, se vi va ve lo dico già da ora, potete seguirmi o sul mio sito internet www.lospaziodimery.it o su Instagram mi trovate come Lospazio di Mary. Dunque, il video di oggi è un video recensione. Io lo so che non sono prodotti che sono usciti di recente, ma sono sul mercato ormai già da almeno un anno, se non di più. Sto parlando della linea Makeup di Clio Makeup, però siccome sono prodotti che io utilizzo spesso e sui quali quindi mi sono fatta un'idea abbastanza approfondita, volevo comunque condividere con voi la mia opinione, perché penso che magari una recensione in più, soprattutto se spassionata e senza interessi, può far sempre comodo. Allora, di cosa vi parlerò? Il primo prodotto di cui vi parlerò è il Liquid Love, ovvero la tinta labbra. Dopodiché passeremo alla palette e all'ombretto singolo. Allora, Liquid Love, io ho la colorazione Fire Kiss e i rossetti si presentano in questo pack in cartone molto essenziale, carino, bianco e color pesca, in cui abbiamo appunto la lista degli ingredienti, non è un prodotto bio, quindi se cercate una tinta labbra bio questa non fa il caso vostro. Ed è un rossetto matte, lo sto indossando in questo momento, è un bellissimo rosso molto intenso, io non so adesso se la fotocamera sfalserà i colori, probabilmente voi lo vedrete con una sfumatura corallo, ma in realtà è un rosso veramente molto intenso. Se magari cercate le mie foto su Instagram, ci sono diverse foto in cui lo indosso e vi renderete conto della reale risa del colore. Anche il pack proprio in sé per sé del rossetto è molto essenziale, perché è in plastica e ha il tappo in questo colore rose gold e presenta soltanto un cuoricino sul davanti. L'applicatore è un normalissimo applicatore, come potete vedere, però devo dire che prende abbastanza prodotto, il prodotto è molto fluido, non è per niente pastoso, quindi non è difficile da lavorare, si applica molto bene e basta anche una sola cucciata diciamo, con l'applicatore all'interno del prodotto che è riuscito a fare tutte le labbra. Ah, peraltro la cosa carinissima è che se lo mettete al contrario, vedete c'ha questa forma come se fosse un rossetto capovolto all'interno, è carino come cosa. E come mi sono trovata con questo prodotto? Allora, io trovo che sia un prodotto buono, veramente valido, mi sembra che costi 12,50€. Io l'ho comprato, ho comprato tutto al pop-up a Napoli, perché in realtà quando sono usciti i prodotti volevo prenderli, solo che la palette è andata subito sold out, così come pure questa tonalità di rossetto, questa non so se ve l'ho detta, ma è la Fire Kiss. Poi quando mi sono trovata nei dintorni del pop-up di Napoli, ho detto no, io devo andarci e devo assolutamente comprare questo rossetto e la palette. Dunque, vi dicevo, è un prodotto molto performante, si stende benissimo, si asciuga subito e la cosa che mi piace tanto è che non appiccica le labbra. Cioè, se io faccio così, non sento quella cosa di appiccicoso e non tira nemmeno, perché molto spesso le tinte labbra tendono a seccare e a fare quelle righettine, diciamo soprattutto sul labbro inferiore, che sono brutte, davvero brutte anche da guardare. E questo rossetto non lo fa. Unico neo è un pochino la tenuta, perché ho notato che mangiando al centro tende un po' ad andare via. Però, insomma, basta portarselo dietro e starci un pochino attenti e riapplicarlo. A me è un prodotto che davvero piace molto. Passiamo adesso alla palette di ombretti. Allora, da dire che è uscita prima la palette di ombretti, questo è il pack in cartone rose gold, questo è il pack in sé per sé della palette. Allora, c'è stata all'inizio una polemica per quanto riguarda i colori, in quanto, vabbè, voi potete vedere molto usata per chi la usa davvero tanto, in quanto si diceva che i colori della palette fossero banali, che comunque sia non ci valeva il prezzo. Allora, io l'ho pagata, se non erro, 32,50 euro, la palette così com'è. Dopo il lancio della palette, qualche mese dopo, sono usciti anche degli ombretti singoli. E, come potete vedere, dietro ogni ombretto, dietro ogni cialdina, c'è un forellino, il che vuol dire che gli ombretti possono essere cambiati. Quindi, la polemica che c'è stata all'inizio, cioè che i colori fossero banali, di fatto non sussiste, perché comunque dopo sono usciti altri ombretti, quindi se volete potete cambiarli. E poi, io penso che comunque sia, questo range di colori rispecchi molto quella che è la personalità di Clio, ovvero una persona che comunque si trucca con dei colori nude. E, sinceramente, sarebbe stata poco coerente se, ad esempio, avesse fatto una palette, che ne so, alla Mulac, piena di verde fluo, colori fucsia e quant'altro. Perché lei o li usa raramente o non li usa proprio mai quei colori. Il pack, diciamo, che poteva essere un tantinello più elaborato, perché questa plastichina qui non la vedo poi così, diciamo, resistente. Se dovessimo toglierci, diciamo, la custodia in cartone, il pack risulterebbe estremamente delicato. E poi, io non li uso agli specchi delle palette, però ci sta, magari si trucca con gli specchi delle palette, gli potrebbe tornare comoda. E poi c'è questo, questa parte di sotto che invece richiama un po' il pack in cartone esterno, nel colore rose gold. Il rose gold è un po' una costante. Queste sono le nuance, ogni ombretto ha un nome. Allora, io non ve li sboccio per il semplice motivo che sul mio blog ho scritto tempo fa una recensione di questi ombretti e vi sono le fotografie degli sboccio con luce naturale, che quindi vi lascerò il link nell'info box, basta che ci cliccate e potete vederveli con calma, senza che sto qui a pucciare le dita dentro e a farvi vedere i colori, magari poi la fotocamera me li sfalsa pure. Allora, cosa dire su questi ombretti? Quando ho comprato la palette, io poi ho preso anche un ombretto singolo e i singoli mi sembra che costino intorno ai 4,50 euro, non voglio dirvi una cavolata. Ho preso il colore majestic, che è praticamente un colore tipo un borgogna. Adesso vedo se riesco a tirarvelo fuori, eccolo qui. Molto molto carino, un borgogna shimmer. Io dagli shimmer mi aspettavo molto, devo dire la verità. Mi aspettavo che fossero scriventi, che fossero davvero pieni come colore e invece sono rimasta un pochino delusa. Quando avevo comprato la palette pensavo di togliere Gotham, che è un grigio scuro, e peraltro lui è stata criticata molto per aver messo un grigio scuro e non un nero. E invece vi dirò colpo di scena, è un colore che io sto usando molto, davvero molto, soprattutto nell'angolo esterno, per dare definizione all'occhio. Ma mi piace il fatto che essendo grigio e non nero, se non riesco a sfumare benissimo, riesce a darmi una sfumatura leggera, delicata, ma non con degli stacchinetti. Anche se lo sfumo bene, insomma, mi piace molto, proprio perché non è troppo pesante. I colori opachi come Gotham, Mocha, Brownie, Moob, voglio dire Drama, sono meravigliosi. Sono facilissimi da sfumare, sono estremamente pigmentati. Infatti vi consiglio, se acquistate questi colori opachi, perché poi anche dei singoli sono usciti altri colori opachi, tra cui anche il nero. Quindi, se acquistate i colori opachi, prendetene poco, poco, poco per volta, perché altrimenti rischiate di macchiarvi, perché sono veramente pigmentatissimi. Sono morbidissimi e sono davvero facili da sfumare, si lavorano, che è una meraviglia. Sono rimasta un po' delusa dagli shimmer, perché, come potete vedere, infatti sono parecchio rovinati gli shimmer. Perché solo con il pennello non si stendono bene, fanno parecchio fallout, necessitano di, innanzitutto, una base sotto, ma più che altro necessitano di essere magari bagnati. Io spesso utilizzo uno spray fissante, cioè utilizzo il pennello bagnato con lo spray fissante, per poi poter prendere il colore, e allora sì che riesco ad ottenere un'intensità maggiore. Io non so se si vede, ma nella piega io questa mattina ho fatto una roba veramente leggerissima, ho messo moca, e poi sulla valpebra mobile ho messo champagnino. E l'ho messo senza bagnare il pennello, come potete vedere, da un colore davvero molto molto leggero, quindi niente di che. Adesso magari solo questo ve lo sboccio, che poi, se preso con le dita, invece, sembra molto intenso, ma con i pennelli vi posso assicurare che l'intensità è molto molto minore. Mentre invece, il meglio di sé, questi ombretti shimmer lo danno quando li bagnate con uno spray. Io non mi fido molto ad usare il pennello bagnato con l'acqua, perché ho paura, ma poi magari di far proliferare germi e batteri sulle cialdine degli ombretti. Mentre invece vi faccio vedere anche magari Drama, che è un opaco, per farvi vedere gli opachi come sono belli, hanno questa consistenza quasi brusa. Vedete? L'ho appena appena toccato. È una scrivenza davvero pazzesca. Poi vi ripeto, vi lascio il link giù nell'info box per poter andare a vedere gli swatch con i nomi degli ombretti, con luce naturale e tutto. E niente ragazzi, quindi, ombretti opachi davvero davvero promossi, anche se, perché poi Clio dopo ha lanciato, anche delle mini palettine fatte da quattro ombretti che potete comporvi voi con i singoli. E tra i singoli potete prendere anche questi qui. Quindi se vi volete fare una palette di soli ombretti opachi, io ve li straconsiglio, perché sono davvero validissimi. Quando io ho comprato la palette intera, ho chiesto al pop-up se potevo prendere la palette grande, però togliere alcuni ombretti per mettere altri singoli. Loro mi hanno detto di no, perché mi hanno detto che la grande puoi comprarla solo così com'è, quindi solo con questa composizione. Mentre le piccole puoi fartele come ti pare, insomma. Palette da quanti colori? 2, 4, 6, 8, 10 colori, costa 32,50. La piccolina adesso, devo essere sincera, non mi ricordo molto quanto, non mi ricordo il prezzo, ma sul sito di Clio sicuramente la trovate. Pao di 18 mesi. E niente ragazze, questa era la mia opinione, era il mio punto di vista. Se volete andare a leggere anche la recensione che ho fatto sul blog. Vi ripeto, shimmer, mi aspettavo un po' di più, fanno un po' di fallout, meglio se li applicate o con le dita o bagnati. Ed è meglio se magari applicate un po' di cipria sotto in modo che se fanno fallout potete spolverarla. Opachi, promossi al 100% perché sono meravigliosi. Ah, questo era il singolo, la cialdina di ombretto singolo. Questo è il colore majestic, magari di questo ve lo faccio lo swatch. Vedete? Molto, molto bello questo colore, me ne sono innamorata appena l'ho visto, ma siamo sempre lì. Se preso con il dito è più scrivente, con il pennello un po' meno. E i rossetti, almeno i rossetti liquidi, io ho questo qui Fire Kiss, è confortevolissimo. Quindi ve li consiglio, per me ce li vali i soldi che spendete. Io spero di esservi stata utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao!